Nella storia della musica e dell'arte, l'intreccio tra le due dimensioni è da sempre al centro di ricerche e sperimentazioni. Il risultato spesso è straordinario. Come straordinaria era venerdì notte l'atmosfera che si respirava la cittadella del Carnevale, dove l'attrice e cantante Chiara Muti, figlia d'arte, ha portato in scena con i suoi bravissimi collaboratori il mito di Medea, curandone l'elaborazione drammaturgica e la regia. Spettacolare la scenografia con il carro di prima categoria di Alessandra Vanzini, Medea, in concorso nell'ultima edizione del Carnevale. Mi è stato proposto di fare questo concerto che da tempo eseguo in vari festival sulla Medea di Benda. Il carro del maestro Avanzini era dedicato a Medea e quindi hanno avuto questa idea che trovo anche geniale in un certo senso, di far rivivere il carro prima che venga distrutto, animandolo di nuovo con la voce del mito di Medea. E quindi eccoci, me e i miei musicisti del trio in scena questa sera a Via Reggio, in una serata che penso sarà più unica che rara. E chi sono io? Di cosa sono capace? Che arrivo portata dalla tempesta? Che posso scuotere la terra, dalle fondamenta!